Ciao, hi, un po' sudato, c'è un po' caldo, sono qui nel mio studio 1 a Pianello Vallatidone, che sto pensando e sto cercando di capire, guardate dietro quanti cd ho, e poi ho i vinili e tutto il resto, come mettere in piedi e mettere on the way l'episode 36 del Just Bad Dance Radio Mix show episode 36, grosse novità non ce n'è, è appena finito il Nameless del 2017, molto interessante, sta crescendo, c'è stato il Mates a Napoli, adesso ce ne sarà un altro, ho letto oggi l'Electric Festival, sempre all'Arenile di Bagnoli, a Napoli, molto elettronico, quindi l'Italia sta battendo colpi, finalmente, sta arrivando la musica Big Room da Festival, spazi ce ne sono, nelle città si può, anche negli spazi più sperduti, vedi a Barzio Lecco che è un bordo lago, è stato fondato questo Nameless, trasportato da lì vicino, dal signor Fumagalli, e io mi dico e mi chiedo, ma in provincia di Piacenza o in Piacenza, perché non nasce una cosa di questo genere? E ci fermiamo sempre alle solite feste di paese, le solite piccole cose per giovani, un tanda di, ogni tanto magari qualcuno aiuta ma giustamente si ferma lì, perché? Perché? Mi chiedo. finisco questo mio vlog 2, tornando a pensare al nuovo Just Bad Dance Radio Mix Show Episode 36, facendo un pensiero e una preghiera a quelle persone che hanno lasciato la vita all'Ongra l'altro ieri, sotto l'ennesimo attacco terroristico, non si ferma il terrorismo islamico, islamistico con le parole. Questi si passano sopra, non gliene frega niente di integrarsi, non gliene frega niente neanche di partecipare, vengono, fanno chiusura nella loro etnia e portano via. Non ti preoccupare che loro dicono che noi abbiamo bisogno di loro. Ci stiamo indebolendo con le parole, l'immagine, l'arroganza fatta solo d'aria fretta. Ma io ritorno a pensare a quello che devo mettere come musica, perché ho deciso che non parlo né di politica né di quant'altro. Quindi vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo Spreaker.com backslash Andrea DJ Bomber Just Bad Dance Radio Mix Show episode 36 in arrivo nei prossimi giorni. Pianello Valtidone e mi raccomando, la Valtidone, Pianello Valtidone, la Alta Valtidone è pronta ad accogliervi tutti voi, bei turisti e turiste che volete venire ad assaggiare il divertimento, l'enogastronomia, il relax. Mi raccomando, io abito qui. Vuoi venire a vedere chi sono io? Vieni in Valtidone, viene Pianello, gira l'Alta Valtidone e vi troverai. I love you, bye bye!